Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un saggio di crescita personale, che scava nel profondo di argomenti apparentemente semplici per invitarci a riflettere, a rimetterci in comunicazione con noi stessi e a lasciarci andare per recuperare il senso della meraviglia della vita. La trama del libro Che significa diventare adulti? Della scrittrice Banana Yoshimoto, casa editrice Feltrinelli, è la seguente. Che significa diventare adulti? Si deve studiare per forza? Che cos'è la normalità? Che succede quando si muore? A queste e altre domande Banana Yoshimoto cerca di rispondere in un piccolo saggio che, si augura, possa funzionare un po' come un amuleto per aiutare i lettori di tutte le età a ritrovare serenità e speranza nei momenti più difficili. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie e iscriviti al canale.